Pregate per me signori, pregate per me Con questi soldi in più, con tutti questi viva points in più Siamo a circa 60 euro e il massimo che ho trovato è Pjanic Riusciremo a trovare qualcosa? Pregate per me e mettete mi piace Ciao a tutti sono Bom, 777, benvenuti in questo nuovo pack opening È il quarto di seguito, quattro giorni di seguito Scusate se vi sto tartassando di pack opening Però non ne faccio da quanto? Da maggio, un bel po' di mesi Quindi devo recuperare tutto il tempo che ho perso Andiamo ad aprire 2300 FIFA points Speriamo, speriamo, posso solo sperare Voi pregate, mettete mi piace a questo video se volete vedere altri pack opening Cerco di potarvene altri se volete Comunque voi mettete mi piace un po' per supportarmi Non dico nient'altro, non vi rompo più Iniziamo, quindi iniziamo col primo pacchetto Speriamo al bel signo della croce Perché oggi voglio trovare qualcosa, qualsiasi cosa Dai che valgono tanto adesso Vediamo il primo cosa abbiamo Attenzione, United abbiamo Smalling Mi fanno, mi fanno credere Zapata, Ru Si pronuncia così? Boh Complimenti per lo schifo Ok, qua c'è Messi, però aspettate perché deve Cioè mi serve Pikachu Vai Pikachu, vai che lo troviamo Dai che lo troviamo Dai che troviamo, attenzione Liverpool Saco, Saco, Tremulina Raffaello Che maglia dell'Egitto Che schifo ancora, che schifo ancora Ormai io, ormai sono depresso io Non posso non trovare niente Per favore Vai Pikachu andiamo Vai Pikachu andiamo Vai Pikachu andiamo Con la cassette Non voglio vedere La cassette mi fa trovare uno schifo Noble 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 Mena John Noble Noble No John Strano che per ora non ho ancora trovato mille crediti Però ho trovato la bellissima divisa del Terek Grozny Ronaldo Dove sei? Ronaldo Ronaldo Siamo a caccia di Ronaldo Ma ormai Qui abbiamo Etxeta Etxeta Sergio Sergio Diarra È inutile far battute Inutile Facciamo Poi diamo 5 secondi 4 3 2 1 Sain Pardo Pierluigi Pardo Zenghin Un'altra volta E basta Dai dai Neanche questo voglio guardarlo Ronaldo dove sei? Ronaldo dove sei? Ronaldo Carrick Si sa Carrick Il nuovo Ronaldo No Il nuovo Bradley Padre Questo pacchetto lo apre mio fratello È lì ma non vuole farsi inquadrare Trovo qualcosa Trovo qualcosa Trovo qualcosa non te ne faccio più più Vorm Cosa mi dice adesso? Guarda che schifo Guarda che schifo hai fatto Vattene Dammi Vattene Incompetente È un incompetente Si è bloccato anche tutto Mi ha supplicato di farne aprire un altro Però non vuole essere ripreso Dai Trova Trovo qualcosa Trovo qualcosa Rosa Le Avevano detto che Le femmine non si possono trovare Su alti main team Tu hai trovato rosa Come la mettiamo adesso? Dai 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 Un altro raro Pejinovic Oyer Aguilar Sosa Lo schifo Comunque ieri Cioè l'altro volta Quando ho registrato Mi sono colpito il timpano Sono ancora Stordito Perché ci ho aperto questo I soldi I soldi stanno finendo I crediti stanno finendo Però se continuo a trovare Non rari Che ci posso fare? Io Cimanta Ovenco Rall Ventura Bla 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 Forster Che bella però la maglia del Newcastle Ma chi se ne frega? Sono Sono depresso Ora sono Depressissimo È impossibile non trovare niente È impossibile Lecce Questi sono i migliori Che stiamo trovando oggi Scocco i due mitzi Dai vediamo questo Questo si salva Si salta però Stai raritando Vai vediamo Che cosa abbiamo Abbiamo Darmian Darmian mi sa che un po' vale Forse 7000 Non è mai Dai va bene Va bene Bella carta Come voglio Darmian Bravo Ho trovato qualcosa Incredibile Mio fratello Ho trovato qualcosa Un applauso E un like Uno due Ne mancano quattro Gli ultimi Quattro mancati Lo salto Sono io che porto sfiga Mi dispiace Però c'è il mio naso Che porta fortuna Facciamo tutto col naso Guardate Con che destrezza Riesco a fare Le cose col naso Lo salto Lo salto Si lo salto Lo salto Dai Dai No aspetta Ho sbagliato il tempo Vai Sono io Sono io che porto sfiga Mi dispiace Sono io Non ho trovato un giocatore raro Ne li faccio aprire a lui Lui è più fortunato Oh Capito Vediamo No Ah è l'ultimo È l'ultimo forse Stefano Murillo Close Si era l'ultimo pacchetto Chi è quel tipo Chi è quel tipo Chi è Di Dillon Dillon Chi è Non si può avere così tanta sfiga Sono fallatissimi i pacchetti In FIFA 16 C'è chi ha aperto 100 euro E non ha trovato niente Sono tipo 60 E non ho trovato una merda di niente Uno schifo di niente Incredibile E quindi Sono tristissimo Anche per oggi Non abbiamo trovato un bel niente Sembra veramente Un'impresa Trovare qualcosa Io però Vi ricordo Di mettere mi piace Questo video Così Se volete altri back opening Vi ricordo anche di commentare Qui sotto se vuoi Magari avete già fatto un back opening Avete trovato qualcosa Quindi iscrivetevi Come avete trovato E se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenta Da bomb 777 è tutto Ciao a tutti